Salve a ciascuno e a ciascuna. Tu sei già un pirata anche se non lo sai. Lo ha stabilito la legge. Quando acquistiamo un computer o un telefono siamo costretti a pagare una tassa, l'ennesima, che si chiama equo compenso, che serve, dicono, a ripagare i diritti d'autore che noi potremmo violare usando quel computer o quel telefono anche se non dovessimo scaricare nulla. In pratica il governo, tutti i governi passati e attuali, ci trattano come se fossimo dei criminali, purendoci appunto, facendoci pagare questa tassa. La cosa assurda di questa tassa è che, pur dovendola pagare, noi non riceviamo nessun vantaggio, perché comunque non potremo scaricare nulla. Ma che significa scaricare qualcosa da Internet? Per i pirati ha un significato molto chiaro. Scaricare qualcosa da Internet significa condividere la conoscenza. La conoscenza e la condivisione della stessa rappresentano le basi della democrazia. E la democrazia è l'unica cosa che manca in Europa, dove comandano i governi e i cittadini non contano nulla. È per questo motivo che i pirati intendono democratizzare l'Europa attraverso la condivisione della conoscenza. Ma per fare questo è necessario che Internet rimanga libera. E Internet sarà libera solo se ci sarà qualcuno, i pirati, in grado di difenderla, come abbiamo dimostrato di fare, opponendoci alla direttiva europea sul copyright, i cui effetti già oggi sono che numerose persone che lavorano nell'ambito della società della conoscenza stanno perdendo occasioni di lavoro. Questi sono i danni di una Europa antidemocratica. Ora che sai che sei un pirata? Domenica 26 maggio 2019 inizia a pensare anche da pirata.